Alla Stottoria! Tutti vanno su Facebook Youtube e Facebook, ciò mai ci ha inondato di video è l'unico modo per far vedere perché la cosa bella, la Rai fa vedere l'isola dei famosi queste puttanate però le cose importanti non le fa vedere Scotinzolini e Morfeo i due appecoronati vabbè io ti dico Scotinzolini che la Rai 1 e Morfeo la Figgi 2 Adelaide si mangiano con loro Bellusconi pezzo di merda Bellusconi pezzo di merda Bellusconi pezzo di merda Enzo c'era anche tua sorella Noo! 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 Era allontanato! Una capa viola Grazie.